Leo Gasman, inedito, X Factor 2018, canzone, titolo, testo, significato si chiama piume l'inedito che Leo Gasman porta a X Factor 2018. La canzone con cui il figlio di Alessandro e nipote di Vittorio fa il debutto nel mondo discografico e che potrà dare una svolta alla sua giovane carriera. Il significato della canzone è da ricercare nella leggerezza che ti dà l'amore. Testo e musica che dovranno convincere il pubblico e Mara Maionchi, la giudice degli underuomini di cui Gasman fa parte.Se non vedi il testo della canzone piume clicca qui.Leo Gasman, piume, testo, hai sempre vissuto quel mondo pensando ai perché il guerre, i dolori, le favole.Sei il disegno perfetto di quello che ho sempre cercato anima fragile, senza peccato.Perché il mondo con noi, gira non lo puoi negare mai e seppure sarai lontana da me ricorda che puoi vivere di me e tutto viene giù quando ti cerco e non ci sei e capirai che forse gli angeli son tutte rondini che migrano per noi mio sogno e dolori quel mare infinito mi ha sempre cantato di te il tempo, le stelle, le pari nesei stata privata di ciò che era parte di te e adesso fatichi a credere perché il mondo con noi, gira non lo puoi negare mai e seppure sarai lontana da me ricorda che puoi vivere di me e tutto viene giù quando ti cerco e non ci sei e capirai che forse gli angeli son tutte rondini che migrano per noi mio sogno e dolore mio sogno e dolore mio sogno e dolore perché il mondo con noi, gira non lo puoi negare mai e seppure sarai lontana da me mio sogno e dolore mio sogno e dolore Leo Gasman, chi è la nuova edizione di X Factor 2018 vedrà la partecipazione nella categoria Underwomen, affidata a Mara Maiocchi, di Leo Gasman, punto parente. Sì, Leonardo è il figlio di Alessandro e nipote dell'indimenticabile Vittorio.Atletico, affascinante e talentuoso. Leo ha conquistato i giudici e ottenuto la possibilità di esibirsi ai live del famoso talent. Riuscirà a convincere anche i telespettatori? Leo Gasman, X Factor 2018, vita privata Leo, come detto, è il figlio di Alessandro Gasman e nipote di Vittorio. Ha avuto un'infanzia serena e tranquilla anche se, immaginiamo, abbia sentito almeno un po' il peso del papà e del nonno. Da loro ha ereditato il grande carisma e lo sharp, ma il sorriso è tutto di sua mamma. Io sono cresciuto in una famiglia di persone felici, ha confessato. Mi hanno mostrato i lati belli della vita, e mi reputo molto fortunato. Però è come se avessi dentro un ego che deve uscire, per sfogarmi e alleggerirmi. Voglio dimostrare a me stesso di poter capire la mia strada, e crearmi un qualcosa di mio. E, ad ora, ci sta riuscendo alla grande punto ma come hanno preso a casa l'avventura nel talent? Bene, benissimo. Anche se non mi aveva detto niente. Si è presentato da me con la faccia di chi doveva dirmi qualcosa, ha raccontato il papà Alessandro al Corriere della Sera. Gli ho chiesto se aveva messo incinta qualcuna, se aveva menato qualcuno, se aveva una brutta malattia. A quel punto mi ha detto che aveva passato i provini dei giudici. La sua missione, lui lo sa, è finire l'università, però sono contento. È un bravo ragazzo, non fa il saccente, è educato e per bene. Sono orgoglioso di lui, ha concluso Alessandro.Capitolo social. Leo è molto attivo su Instagram qui in suo profilo dove posta diversi contenuti a cadenza regolare.Fidanzato? Al momento non è dato saperlo.